Ciao a tutti, sono Biondi Lorenzo, insegnante di batteria, qui al Soundcheck Studio. Nel mio corso potrai trovare tutto ciò che riguarda l'allenamento sul pad, tutti i vari rudimenti, l'insegnamento sul timing, il groove e principalmente lo stile rock, hard rock e heavy metal. Se siete interessati a fare un po' di casino tutti insieme, vi aspetto qui, in sede al Soundcheck Studio. Potete tranquillamente chiedere informazioni alla pagina o tutti i contatti che troverete in sovraimpressione. E che dire, vi aspetto qui per la vostra lezione di prova gratuita. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!